Marco Protopapa, Assessore all'Agricoltura e al Cibo per la Regione Piemonte, siamo qui a Torino nella sede della Regione Piemonte per parlare di questa missione della Regione di Piemonte Land Alvin Italy di Verona. Insomma, ne abbiamo parlato anche prima, la parola d'ordine è un po' unità, ma veramente i piemontesi questa volta riescono a essere uniti, a fare squadra, a fare team, perché di solito vanno un po' in ordine sparso, è così, Assessore? Io ci ho voluto credere e provare fin dall'inizio, quindi in conseguenza credo che questa visione possa essere concretizzata col Vin Italy 2024, con una mission legata a un'unità anche in un semplice stand, 1500 metri quadrati, che accoglieranno tanti visitatori, tanti curiosi, ma soprattutto vorranno dimostrare questa voglia di stare insieme. I consorsi, naturalmente rappresentati da Piemonte Land, hanno aderito e vogliono sicuramente dare un segnale di peculiarità, di visibilità del proprio territorio, ma anche in un contesto comunque generale. Quindi sì, io credo che la scommessa a questo punto possiamo dire che arrivi ormai al capolinea e possa diventare veramente e certificatamente vincente. Senta, Assessore, quest'anno e da un po' di anni l'agricoltura piemontese, ma anche l'agricoltura italiana e mondiale, devono affrontare delle crisi climatiche e commerciali importanti. Ecco, il Piemonte come si sta ponendo in questo senso? Il Piemonte sta sicuramente cercando di capire esattamente in quale situazione e in quale fase si trova, perché naturalmente questo ci sta portando a fare delle scelte importanti. Le scelte si fanno con la testa, ma si fanno anche con le risorse e quindi noi stiamo cercando di calibrare e modulare tutto quello che ci permette di avere il complemento di gruppo rurale 2023-2027 e su questo stiamo facendo delle attenzioni soprattutto verso l'innovazione, verso la gestione delle risorse idriche, senza abbandonare poi le classiche attenzioni verso i giovani, verso gli investimenti. Quindi questa è l'idea del Piemonte del futuro, quello di essere concreti come sempre e quindi gestire quello che uno ha nel miglior dei modi. Senta, una domanda per alleggerire. Lei va al Vinitaly e assaggerà tutti i vini del Piemonte? Sicuramente sì, specialmente in questo periodo dove non dovrò dimenticare nessuno. Tutti dovranno essere attenti a quello che sarà la mia attenzione verso di loro, ma come sempre, a parte le battute. Tutti dovranno essere attenzione verso i giovani, verso i giovani, verso i giovani, verso i giovani.